musica 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 ok vado uguale vado uguale io mi faccio cassa sono abbastanza skillato da farcela comunque aspetta c'è un'altra scimmia che dovevo prendere cazzo era mi sono dimenticato dove è wow un blackout ah è giù di sotto ah è laggiù dal paga punch che cazzo vengo su a fare sto tornando giù eh poi devo tornare su però guardi lei non si preoccupi no non è qua giù invece dove cazzo è oddio un lapsus Jimbo là c'è il microfono dov'è il pezzo da prendere uno è al Canars occhio 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 che c'è gente qua occhio eh sto pensando dove andare madonna stanno entrando dai portali occhio occhio a entrare di qua è perchè ho attivato le trappole alpaca punch ah grazie ma si scivolo no vero meglio no 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 infatti o un lapsus di quelli cattivi Jimbo eh guarda guarda se vuoi la fine del round ne lasciamo uno e vai a vedere il tutorial video di coscino quello che ho fatto io o quello che ho fatto io perchè l'ho fatto anch'io Jimbo no 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 vai a vedere quello di coscino o quello di guagna oppure vai a vedere quello di Sal quello di Matt che non l'avrà mai fatto nella vita ah ok il papillon è al porto ah grazie che l'abbia letto nei commenti perchè questo è una live ricordiamolo no in realtà mi è venuto in mente se mi sento che sono un convinto salve me ne sono andato comunque salve wow grazie che comunque tu hai già superato le mille kill eh wow e tu sei ancora 600 scarso che beh grazie tu hai l'affare questo è il motivo per cui mi promuovo e arriverò a fare il prestigio a fine partita io sto andando a fare una cassa non so se sia stata una buona idea eh io sto andando in giro per andare al porto non so se sia stata una buona idea ho aperto anche la fenditura del porto if you know what I mean yeah I know what I mean ok ce l'ho fatta mi è venuto in mente dov'è l'ultimo cosa da prendere e ora sarà preso quindi preso perfetto oh oh ah ok c'ho le scimmie giusto grazie a dio ultima scimmie ho le scimmie potenziate mi faranno anche il balletto tipo ultra figo però va bene sai che fanno anche il balletto? si si fanno anche il balletto ok guarda che sto per entrare dal portale guarda io sono qua che giro in città ok perfetto ah sto arrivando in città si però sto arrivando in città anch'io si prepari che sto arrivando da lei guardi il mio punteggio devo andare al teatro io salve vedo il suo punteggio sto andando al teatro se vuoi chiamare il civil protector ma no 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 è da nami ok sono al teatro sono al teatro e tiro una ciglia oh sai che mi sa che non funziona tipo perchè abbiamo fatto le spade e c'è il tizio sopra al coso ma va non può essere così buggato non ci credo eh no c'è il tipo sopra non può funzionare merda non funziona dici che c'è per quello? eh per forza si 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 non va non va cazzo o l'ho tirata male io dopo riprovo ma comunque mi sa che non va guarda ne lascio uno e dopo eh servo un ammo servo un ammo vabbè proveremo di nuovo dopo ma mi sa che bisogna farlo prima di fare le spade ok va bene buona sapersi abbiamo scoperto una cosa in più ah mia ragazzi dopo al massimo se ci rompiamo le balle andiamo a fare i cacciatori di easter egg eh no non troviamo easter egg quando siamo di giù sicuramente non troveremo roba di nuovo via attivo la trappola attivo la trappola oddio o no no ma dimmi cosa faccio non l'hai attivata no non l'ho attivata comunque le palli rimbalzano quando le colpisci con la reagan eh come rimbalzano? si si rimbalzano due volte si mettono a saltare ma che strigone di emma è questa? no 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 nota che questo round è infinito si ma è assurdo cioè se ogni round è così ragazzi miei è lunghetta si eh però avendo le ammo di quest'anno basta che tu vieni ad accumularli con me un colpo di uccidere tutti i cimbo se ci pensi si beh in effetti anche questo non fa una f***a dividiamo per due il tempo totale richiesto io sto andando di nuovo a farmi casse perchè si io passo il round no no non fa ridere non fa ridere ripeto Jimbo stasera dopo aver finito la partita si metterà a fare gli sticker e li condivideremo sulla pagina facebook perchè è passato il round? mannaggia benvenuti a round 30 ragazzi in due è buono inizia ad essere un buon round cimbo ne sei consapevole? si certo io sono a metà del 34 ok mi ha sponato un margo a fianco ok cerca di non lasciargli le teste capito? cioè non toccarlo ho sponato anche a me comunque Reagan in mano e si va in città a comandare e anche oggi si fa cassa domani cheat mamma mia ragazzi quel meme l'avrete già visto nella pagina si si l'avrete già visto e sarà come sai quando facevo tipo i meme sai quando andavano in mondo i meme su carl no? si ti ricordi quello CARL che è la vignetta con Rick e Carl in prigione si 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 ecco una volta giocando con jambu a una vecchia partita su call of the dead jambu ha fatto la battuta anzi no forse io ho fatto la battuta ah no jambu ha fatto la battuta sullo spasso ah oddio quella che abbiamo messo anche nella cassa sai che eh non mi ricordo sai che mi ok in questo momento tre margo qua sotto se hai una caramella usa la ora no Mirko cazzo ah beh ho il quick ho il quick fermo allora faccio così aspetta che riscan gli zoom bravo aspetta ancora ti dico io il video hai già capito cosa voglio fare vero? attivi la trappola si però li fai spawnare qui secondo me anche senza attivare con quick ce la fai eh c'è una bomba qui merda è sparita è sparita niente va bene vai non l'ho vista l'ho vista tardi grazie via ok ci siamo stavi dicendo stavi dicendo stavi dicendo hai insomma detto eh questa arma mi fa ridere è uno spasso cioè non mi ha detto ho trovato un'arma che fa ridere e poi ha detto è uno spasso nooo queste cose oddio c'è ancora la trappola non posso andare di là si 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 è stata pessima allora ci ha fatto il meme no CARL è una roba del genere ho sentito tipo no Mirko Mirko no eh no ho finito i colpi del coso se vuoi fare stendardo questo è il momento ma non ho il jug io eh guarda se vuoi vado eh vada attivando no no ma forse questo possiamo provare a passarlo che dopo secondo me ci sono tipo le palle che ci danno le emmo io vado dal jug vai 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 tu vai io rimango sotto io rimango sotto vai 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 scappa 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 sto andando sto andando con calma sto andando fuggi Mirko fuggi salvati almeno tu cazzo ho sbagliato uscita del del portale tieniti la spada come guardia del corpo come cazzo si fa ok mi confondo coi tasti ogni tanto tasto destro q e tasto destro si si mi confondo un sacco per poi boh vabbè ma q q a posto guarda in questi casi preferisco di gran lunga giocare a black ops 3 con il joystick perchè hai le combinazioni dei tasti assieme tu non hai idea di come tu mi stai prendendo per il culo tu non hai idea di come però tu non hai idea di come ok qual è il piano what's the plan il piano è che volendo io potrei provare a prendere il teletrasporto che mi porta a no no stai la stai la stai la stai la ti prendi il teletrasporto a canal ci sono zombie laggiù? ci sono zombie? lo prendi a canal e sono e sono qua davanti si però anche gli zombie che sono dietro di me entrando dal canal dopo eh guarda a me basta che mi di animi grazie proprio solo perchè mi hai insiso via 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 a posto non ho colpi nell'altra arma Allora, ho un'idea, tu lo sai che i margo muoiono se facciamo lo stendardo, facciamolo stendardo Via, via, prendilo, ok Cioè, muoiono subito, ma muoiono dopo, chiamo il civil protector Muoiono quando lo falliamo, quando lo falliamo, muoiono tutti e tre Però dobbiamo vincere il primo, eh, sì, sì, sono sicurissimo, lo faccio io meglio Ho messo, ho messo la cosa Guarda, io sto qua sotto, che sono alle presi con uno di... Tieni la sotto, bravo, tienila sotto tu Io faccio il coso qua sopra e tranquillo, vedrai che andrà a buon fine Dopo, prende l'ammo e fai anche lo step successivo, va là Perché così... Sì, sì, ma devo farlo fallire, lo step successivo Sì, sì, eh Tranquillo, una volta che sarà fallito, i margo spariscono, tutti Ok, finisco Lasciali, margo, va, tranquillo, muoiono da soli, muoiono da soli Tu stai tranquillo, adesso muoiono, guardali Sì, ma il problema è che sono tanti, devo per forza ucciderli, perché sennò loro uccide non è Gira, gira, trovo modo per girare, tranquillo ci sto pensando io Ho quasi fatto, eh Devo anche andare a prendermi i perk per quello Qualche istante, vedrai che non fallisce Tranquillo, fallisce adesso, non è inutile che... Tranquillo No, è che mi... mi preoccupi Ok, li ho uccisi tutti Eh, li ho uccisi tutti, però lo step qua, ecco, è fallito adesso, sarebbero morti loro Bene, ok, tutto ciò non... Quanto abbiamo le ammo, comunque Cosa che io non avevo prima, adesso c'è Ho sbagliato uscita, ovviamente Tornano gli zombie, quindi attento E io sono senza, ovviamente, jungle Ottimo Ok Ok, tranquillo Mo vado a pigliarmi il jungle Ci siamo, un momentino di crisi, sempre con i margua, ma siamo tornati alla... Sempre loro sono quelli che facciano, ma non è che... Siamo tornati alla normalità, forse sarebbe da fare tipo lo standard con i margua, così muoiono tutti e tre, hai capito? Ah, ho capito quello che intendi, sì, 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 sì Ucciderli Che tanto da anche l'emo, cioè doppio vantaggio Perché tre sono tantini da gestire Vedremo come fare, dai Vedremo come fare Come siamo? Sono a metà del livello Via, via, da qua, via, prendere la speed C'ho pallo, devo andare a prendere tutti i perk, adesso La speed non compravo, io la speed devo comprare invece Che comprare quella del vino di merda Ah, hai perso tutti i perk Tutti, ma io li ho persi veramente tutti nel vero senso della parola Sì, sì, infatti lo so Dove è la speed, scusa? Ah, i canals Ah, ok Allora io prendo la stamina 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 Uh, male in faccia Stamina Quick E Sai cosa? Non prendo, esatto Anch'io non prendo la widow's wine No, no, secondo me fa solo casino quella Perché lì rallenta e non sempre va bene Che si blocchino in giro per la mappa Ok Prendo qui che anch'io va là meglio Ok, fa Oh, oh, oh Oh, cosa c'è? A posto, a posto Da un zombie che fa il cazzone Bene Fatto Ho tutte e quattro le bibite Vado a prendere il poso e ce l'ho corruto anch'io Ci siamo Ci siamo Fatta GG Fatta bene Proprio a posto Bene Uff Difficile Difficile ma bene Ok, adesso che non abbiamo più Margo Agli altri round li facciamo veloce Tu stai qua giù con me Gli accumuli insieme a me Al paga punch Così un colpo della mia arma li uccide tutti E andiamo avanti molto veloce Ok, un attimo Che sono in un attimo in modalità gabbo sempre Ok, qua sotto è tutto tranquillo Se vuoi scendere Eh ma devo prendermi il quick Io mi guardo in tanti dettagli Nella mappa Arrivano gli zombie Dai su Nella stanza iniziale del bonus c'è un instakilling in caso servisse Ok, però adesso non serve ma va bene E vai pure col round Dov'è la cassa? Oh ma si muovono anche le trappole fighe Dov'è la cassa? Ok, ho trovato visto la cassa Vado un attimo intorno Vai Posizione incredibile ha sta cassa Perché scusami Ovviamente io avevo tre armi Mi ha tenuto quella non pacca panciata Ok Che tra l'altro faceva anche schifo Quindi via Ok Ok Vediamo le statistiche Zombie vest 1236 uccisioni 7 a terra 10 reanimazioni 133 alla testa Uh Jimbo mi sta battendo con i colpi alla testa Jimbo 732 uccisioni 10 a terra Ok, mi accontento di questa incredibile arma Ok, siamo pronti per passare al round successivo Comunque avevo la caramella per pacca panciarmi l'arma quando ho finito i colpi prima Vabbè Eh, devo fare solo una Cioè, tiro una scimmia Vedo se funziona Va, se non funziona vuol dire che non va Wow Vediamo che gabbogam mi da se faccio un tentativo di Di acquisto Che cos'è? Mi sento fortunato Ah no, da tipo un bonus casuale Sì Vaffanculo Non lo voglio Che gabbogam hai adesso? Eh, ho quella che mi paga pancia l'arma Ma secondo me può essere utile se finisco i colpi Guarda, io l'ho cambiata Ho cambiato quella che mi porta via in un posto a caso Mi ho messo Ho preso quella che se muoio e tu non riesci a rianimarmi Respo uno con le mie armi Eh, esatto Quella a te ti conviene Ah, è una funzione invece Ha funzionato la scimmia? Sì, sì, ha funzionato Ringraziamo la scimmia che è venuta da Firenze Sta facendo il balletto E se gli spari non succede niente? No Stai al teatro a fare il balletto No, ho sparato anche con quella che risucchia Ma non è successo niente Ok, va bene Giusto per sprecare un colpo prezioso è presente Sì, sì A posto così Vai, quando vuoi Sto pacca panciando Quando vuoi puoi uccidere l'ultimo zombie Che pensa abbia tu Perché io non ce l'ho Non possiamo procedere con Fino al 40 Tranquillamente 50 Per ora al 40 Dico, mi do obiettivi a step Hai capito? Step di 10 Per ora al 40